ciao a tutti sono lorenzo se fuori il meteo prevede pioggia e non volete inzupparvi i vestiti e voi stessi uscendo di casa ho il prodotto giusto che fa per voi SIGLA Impermeabilizzante per pelli e tessuti della Maurer parliamo di un prodotto spray made in italy da utilizzare su tessuti e pelli scamosciate abbigliamento sportivo e calzature al fine di bloccare le infiltrazioni di acqua olio e sporco questo prodotto idro repellente non unge non macchia in quanto non contiene nella sua composizione siliconi e la sua caratteristica di effetto antistatico fa sì che sporco e liquido non vi si depositano sopra in pratica va a creare un velo protettivo preservando le fibre di colori ma soprattutto lasciando inalterata l'originale traspirazione oggi lo testeremo su di un paio di scarpe da lavoro in pelle vediamo come spruzziamo il prodotto abbondantemente su tutta la scarpa in modo omogeneo ad una distanza di circa 15 centimetri possiamo ripetere l'operazione dopo 10 minuti in modo da rendere al meglio l'efficacia dell'impermeabilizzante facciamo asciugare le scarpe per un'ora così da permettere la completa asciugatura ora possiamo provare a vedere il risultato spruzzando dell'acqua sopra la scarpa trattata come si può vedere la scarpa non assorbe il liquido ma lo respinge un consiglio utile che vi possiamo dare è spruzzare il prodotto sul capo di abbigliamento al di fuori della propria abitazione in modo da non nebulizzare il prodotto per casa o da evitare di trasformarla in una pista di patinaggio questo prodotto lo potete trovare nella nostra sede a trieste in località fernetti 14 vicino al confine con la slovenia oppure sul nostro sito internet lorifar.it grazie per aver visto il filmato mettete un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e buona giornata ciao ciao Grazie.